1, 2, 1, 2, 3, 4 3, 4, 5 Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. 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 Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non Grazie a tutti. Non, 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 non. 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 non c'è la scuola le psica courto presenti al nami sono le fette che intenzione tomerga co indi va noter donc a 4 manca di violenza i battalà donc chaque fai vai cica boxe air ca intégralité physique protégé cosmo e boxe amaterla donc boxer aggiri lontay mona dam la mamma donc il vettiamo fase beta il sorra che boxe professionnelli rompia mi barra che cosmo e boxe professionnelli Non, 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 non. Non ci sono iicky chiuderazzano, perché lo che ci sono speciali. La boxe è organizzata dall'organizzato professionello. Se non c'è la boxe professionnelle, cioè sempre la boxe professionnell. La boxe è continuato perché la boxe è abate, ma cosa in fine è che la fiderazione non è supervisata. È Molto sempre giusto della fiderazione. C'è sempre la scuola perché è indietro. In questo modo il tenemoso scrittere delle cose che di questi anni, questo è un po' di tutti ibicianti che sta servendo. Ci sono una relazione di soli in cui si vengono, Non, 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 non. non solo il nome della federation, ma non è la federation. Non solo il nome della federation, non solo il nome della federation. Quindi noi facciamo la federation, le cose che si tratta. E poi in modo che i suoi organizzati, che i frederations come la federation, ma che si tratta di frederation, ma che si tratta di federation, si tratta di un combattamento. Quindi ci sono i dati perché non si tratta di combattamento clandestinico. Quindi è interdito. Il s'agirà che il sport, il combattamento clandestinico con le reglamento e revisione con le critério della federation quindi in quattro se si seguirebbe l'integretismo chiuso non si seguirebbe ma come si seguirebbe se seguirebbe si seguirebbe ci si seguirebbe il battuto il servile i boxe in reglamenti si seguirebbe i championi Non, 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 non. Si è la FEDERATION, la FEDERATION, qui si è una squadra di Liga Romana, in cui ci si è il barato continuo. Non, ci si è una squadra di differenci. La FEDERATION, par exemple, è su il plan national, che si è il boxe sempre encadrata. Ma ci sono un team professionale, ma c'è il boxe professionnel, quindi la squadra di erano, non ci si è quello che si è il boxe professionnel. Ma ci si è quello che si è supervisato, quindi la federazione non è finita di supervisi c'è vero il suo suo pouvoir d'amore ma federazione non è supervisi quindi la federazione è una federazione è una federazione di national e ha un membremento di ligue professionnelle e quindi il mandato di bambolo per organizzare la ligue professionnelle di boxe a travers la preparazione dei boxe un boxeo preparato si viene formato si viene se si vive a un cote di salute si vive per esempio il boxeo professionale quando si vive un bambino si vive un bambino si vive il bisogno di fare le radio il bisogno di scanne il cervello che si vive il bisogno di un bambino quindi la radio il il bisogno di scanne il bisogno di questo che si vive per controllare il città la gente si vive il bambino si sono possibili se possibili se possibili come i Bocsiani non sono solo i documenti di QTSC ma sono i Bocsiani ma Ad esempio se che in Abocsiani si è un Bocsiani sono кл подготовito sia un formiglio di organizzazione ah bo? ecco è un formiglio di organizzazione ad esempio nella parte di FEDERATION con un mandato abbiamo il gruppo di organizzazione il gruppo di organizzazione Flari. Wow. Si è l'Africa Boxing Board of Control, è quello che facciamo fare. È l'Africa Organizzazione, che si facciamo fare le boxe professionnellmente. Quindi, cosa facciamo? È l'RBO, è la Royal Boxing Organization, è quello che facciamo fare. C'è significa che come si facciamo organizzare, come facciamo fare le cadre di noi. e questo è tutto a fatto quindi noi stiamo iniziando con un gruppo di organizzazione con un gruppo di partenari che ci siamo iniziando le organizzazione Kilimbi è un gruppo di organizzazione non è un gruppo di organizzazione ma non è ancora un gruppo di vicepresidente per l'Africa è un gruppo di unione africa è un gruppo di vicepresidente per l'Africa C'è interessante. C'è Non, 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 non. questo è quello che mi ha detto a avanciato di unico perché noi ci sono organizzazioni che sono stati stati in Italia e in Anglieterre ci sono persone che inizierono, e che è stato un boxeo professionnel ci sono persone che inizierono quindi ci sono organizzazioni che se raggiungono mondialmente sono un boxeo professionnel Ok Il nostro corso gratuito è il nostro corso gratuito. mi sorgono il medessin sportivo perché ovviamente è stato un medenso sportivo il mio studio sono tretto il vi è formato per quanto arbitraire il come quindi il vi è felice perché in pratica con l'organizzazione e non si vanno a fare quindi non si vanno a fare ma l'organizzazione un combattamento non si vanno se torna una formazione che ci sono per le regle Un datac goshawbi è l'organizzazione della sociedade Questo방b司 è stato molto interessante E ci sono 14 anni e scempurbonne El corso dei progetti l' tramite sette in combattamento Gli attaide è ch isso Per gli empfezzi 8 volte ormai prima vuском l'onore a formato la mia zona milano e piscina tu né passeront l'inclino tra mini di ita rosa gogane fonda fra e n ii rai ma cisa cicarica li qui boulefli pendant six anni sitten mi tanti innombroie vallat Non, 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 non. Non, 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 non. il d'espo che il caito al dorsaro per dire che boxe e che cacchi non qui allo per fra fra non cano apri bon chansi bene ma scopi il va kelamala ma coppia il chansi basse rosa venite a chanser con l'idia l'ecolla macchi a venduto colanon fredini di plantebo non sport fanno di a bbc garcega fa namba la ma Non, 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 non. Non, non, non. non non organizzano la 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 le on Grazie. No. L'havenza, qui è venuta a la sua vita, è il momento che è venuta a prendersi una domanda. Non, mi raccoglie della prima è una domanda che c'è. Non, mi raccoglie di una domanda, perché è una domanda che si è venuta a prendersi una domanda. Mi fanno, come c'è una domanda, come le faccio che è venuta a prendersi una domanda con i bambini, che si è venuta a prendersi una domanda per la domanda. C'è un po' di tempo che ti sei darato. Ma mia è un po' di più. Si non, non è una cosa più. Non, non è una cosa più. Mi ha detto che sono lui e che i tuoi. Non, come già. Non ci sono apprezzati. Se non, non è un po' di più. Un po' di più di più, non è un po' di più. Non è un po' di più. Non ci sono i ragazzi, non ci sono i ragazzi. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Non, 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 non. C'è un'esafale, c'è molto proteggero. Ci sono proteggero dal loro colore. Ci sono un'esafale. Ci sono un'esafale, un'esafale, che proteggera. Ci proteggeranno anche il nostro valore. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. 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 Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non Non, 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 non. Bene bene con l'amico si tu hai visto la放ce. Allora nana ne chiedono qua, cosa che si rienta experiência? E così grazie di una ora! Quasi ti te va fare? Dove sei tu che? Que ti veviare? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. A tutti i miei, i chiogni. Hai invitato a fare un非常的. Tu mi sono? Tu mi sono accelta? Grazie a tutti, grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.